Benvenuti in un nuovo spacchettamento dei calciatori Oggi invece abbiamo 11 bustine Eccole qua, ve le mostro tutte quante Tanti spacchettamenti stiamo portando sul canale Grazie tanto per il supporto che ci state dando Partiamo subito con la prima bustina Dai parti tu vai Ok Speriamo, come già sapete, in qualcuno del Napoli che magari mi manca O comunque in qualche top player mancante Andiamo con i due giovani Lanciapong e Mazzitelli Le teneli? No, cioè sì Vabbè doppione In caso vogliate fare degli scambi Gonzalo, Rodriguez Munari E Drammi Ok Pacchetto di scritto direi Vai tu Simone Proviamo Ok, manita magica Allora dai, speriamo bene Dai, dai, dai Non abbiamo vinto Niente Ok Il primo che incontriamo è Babacar Della Fiorentina Apprezzo molto la Fiorentina come squadra, mi piace Babacar è un buon giocatore Poi abbiamo tre giocatori del Benevento Che si trovano molto spesso il Benevento Nel bustino Ultimamente io non l'ho trovato tantissime di solito Nicola Rigoni Del Chieva Oh Nuovo acquisto della Juve Questo Questa è tre anni fa Vabbè sì Ha già vinto uno Scudetto, una Supercoppa e una Coppa Italia No, in realtà l'ho comprato due anni fa Vabbè comunque mi mancava E abbiamo anche Sadik Umar Bello Sadik Umar Chiedi che mi fa molto piacere, i giocatori della Juve non male Comunque se mancano e sono forti Anche della Juve, anche se non si parla, vanno benissimo Non ci interessa Vediamo Vediamo con la terza bustina Non l'abbiamo vinto Non l'abbiamo vinto Un giocatore Oh, Riccardo Chichina Non so se ce l'ho no però Bel giocatore Tre giocatori del Cesena Questo è Luca Cepitelli Non lo conosco Marco Corriello Ce l'abbiamo? Sì E Dusan Basta che almeno manca Marco Corriello in cartone è carino, sai? Sì, anche se è il migliore Il mio preferito rimarrà sempre Riccardi Vabbè, Riccardi con il telefonino è fantastico Ok Tra l'altro al posto di Pirelli c'è tutto Pivelli sulla maglietta Che spettacolo È bellissimo Quelli della Panini ha un senso rumorissimo fantastico Spero anche Non abbiamo Una carta da record Dai, dai ragazzi Una carta da record Oh, c'è qualcosa di olografico No, dai Scudetto della Fiore Ragazzi ho trovato 5 scudetti E trovo quello della Fiorettina Sono sempre bellissimi come scudetti Sono stupendi però Tadam Perugia è già finito Perugia è finita Quindi niente Oh, Daniele Rugani Rugani Stimo davvero tanto Andiamo avanti con Molto bene con Gamberini Gamberini Era un ex del Napoli Gamberini se non sbaglio Sì E Savir Tider Buono dai Un pacchetto di scritto Ok Andiamo con Il prossimo Pacchettozzo Non l'abbiamo vinto Vedo un po' di olografia Eh C'è il gelo Seria team L'abbiamo venita C'è il gelo Quella Con la pagina è già finita Tre giocatori del Trapani In carta girata Marco Festa E allegro come una festa Alla faccia Oh, grassi Un giocatore comunque Alla fine del Napoli È il prestito È il prestito All'Atalanta E Salsedo Ok Vediamo quanti pacci mancano Cin No, sei pacchetti Dai Simone Dai qua su Le tocco magico A Napoli non stiamo trovando Figurine del Napoli È una cosa assurda Abbiamo trovato Gamberini Nello scorso pacchetto Dai chi vuoi Dimmi chi vuoi Mertens Mertens Ok Non abbiamo vinto Scudettini Doppi scudettini Cittadena Cesena e Cittadella Cesena I giocatori del Bari Oh Nagi Già Tre volte è uscito Un ottimo giocatore Quanti doppioni ragazzi La squadra della Roma Che è ottima E poi la squadra del Cesena Era più pacchetti Non c'erano giocatori In questo pacchetto Strano Mamma mia Metti qua queste carte Ok Procediamo dai Dai Allora Ti prego Ti prego Un bel giocatore Ragazzi Dal Napoli Dai Dai Lo hai come giocatore No Sepe doppione Non è un bel portiere Mi piace Se le facesse Tavolate Le papere Oh abbiamo vinto Finalmente Abbiamo vinto Ok Un'altra bustina Da ritirare Oh Oh Questo È Mario Mandzukic Mario Mandzukic Mi manca Quindi Apprezzato Un buon giocatore Tre giocatori Della Sverona Andrea Conti Che già ho E il quarto Joe Hart Che trovo Ragazzi Fantastico E poi c'è Il Murillo Che non ha due Ragazzi Sicuramente Una quantità Di doppioni Allucinante Perciò se li volete Basta che ci contattate Tra poco Vedremo con le mail No sto scherzando Faremo degli scambi Magari Per i giocatori Del Napoli Se li avesse Guarda Non ne troviamo In realtà Ne trovo anche Però Sono sempre gli stessi Non ne troviamo Sì Sempre gli stessi Non abbiamo vinto Dai Non è Un pezzo Dopo i card Non poteva mancare La faccia Più o meno Evocativa Ok Tre giocatori La Provercelli E Squadra della Lazio Ok Due giocatori Uno del C'è C'è Uno del Bologna E l'altro del Genova Michiel Veloso Mi mancano Mi mancano Entrambi Ragazzi Quanti doppioni Ragazzi Quando si spacchetta Alla fine Iniziano i giocatori A comprare I stessi Questa busina L'ho sentita magica Dai dai Ho sentito La vocazione Oh Questa è Supercoppa Che già abbiamo Abbiamo già terminato Una pagina Peccato Rapani Bruno Bruno Alves Borca Valero Grave giocatore Cinque doppioni Cinque doppioni Eh vabbè ma Siamo andando avanti Pian piano Quando attacchiamo Vai Simone Dai Dai Ci vuole il tocco magico Dai bella Dai dai Questo pacco E' stato veramente Deludente Quindi Questa di violenza Abbiamo vinto Direttamente Abbiamo vinto La gioia è arrivata È arrivato Maccarone Caccia la birra È arrivata la gioia È arrivata la gioia Andiamo a bere sotto Agli spalti Oh oh Lascoli La manita magica colpisce Rincon No mi manca La manita magica colpisce E poi c'è Iliemark È un uomo Ok Iliemark E Pegolo Pegolo Oh 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 Buon pacchetto Nessuno più Oh Giudini Ora tocca a te amico Ultimo pacchetto ragazzi Dai Dai Uno del napoli Uno del napoli Cioè è possibile Tocca il pacchetto Tocca il pacchetto Vai Tocca il pacchetto Una fortuna Il padovino vai Il padovino trovato Nel pacco pericolo Nel provvedere L'avrete già visto Non l'abbiamo vinto Lorenzo si è doppio Però è del napoli È del napoli Almeno uno Al napoli dai Giocatori dell'Else Vedo la maglia viola Ecco Davide Astori Matti adesso Matti adesso Già lo hai Sì l'ho trovato Lo scorso pacchetto Molto bello Ragazzi Bel pacchetto Anche questo Big Mac È stata veramente La gioia più grande Di questo Di questo spacchettamento Sì Non abbiamo trovato Molte carte Di quelle che ci mancavano No Diciamo Però dai Bel pacco Vediamo Ci siamo Penso Mi sto avvicinando Alla fine Della collezione O giù di lì Penso Mi mancano 200 250 carte E i doppioni Sono davvero tantissimi Quindi come vi ho già detto Contattateci Qui sotto nei commenti Facciamo scambi Per scambi Se vi servono Un po' Ragazzi Il video finisce qua Da Paranormal Comics È tutto E ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao